Viterbese e Reggiana appena finita 2 a 2 ed è una partita molto amara, amarissima direi perché la Reggiana stava vincendo, vinceva 1 a 0 con gol di Zamparo, poi al 47esimo il Viterbo, la Viterbese. Pareggia, riusciamo ad andare avanti al 56esimo, sempre con Zamparo e cosa succede? Che la Viterbese dopo due minuti recupera e finisce 2 a 2. Per due minuti siamo stati a due punti dal Modena ed è un peccato perché oggi era una di quelle occasioni che non credo che ritorneranno così frequentemente. Il Modena è stato battuto, in modo anche sorprendente dire la verità perché probabilmente era più semplice la loro partita che la nostra. La Reggiana con la Viterbese ha sempre fatto fatica, anche l'andata abbiamo fatto un 3 a 3, per chi se lo ricorda è stato un pareggio particolarmente funambulo, nel senso che a un certo punto la Reggiana stava perdendo 3 a 1 ed è riuscita a recuperare in maniera abbastanza fortunosa, anche se il gioco della Reggiana è sempre stato migliore rispetto a quello della Viterbese anche in questa partita, però alla fine è un pareggio l'andata, un pareggio al ritorno. È un grosso peccato perché si poteva essere a due punti dal Modena con tre partite che può succedere ok, può succedere veramente di tutto, può vincere tutte le partite il Modena, non può perdere tutte tre, quindi ad oggi non sappiamo come... però ovviamente è meglio avere due punti che averne quattro, questo è un dato di fatto, perché una sconfitta del Modena e una vittoria della Reggiana rimetteva tutto in palio. Adesso servono almeno due pareggi del Modena, ma altrimenti non c'è niente da fare, almeno due pareggi se non due sconfitte e quindi abbastanza complicato. Il calendario è molto similare fra Reggiana e Modena, non ci sono delle grosse differenze, forse leggermente favorito il Modena perché comunque affronterà Limolese la prossima partita, il Gubbio e il Ponte d'Era. In prospettiva Limolese è il diciannovesimo, il Gubbio è sesto e il Ponte d'Era è undicesimo. La Reggiana dovrà affrontare la Fermana, la Fermo, che è diciassettesima, quindi non molto lontana da Limolese, l'Entella che è quarta, quindi non molto lontana dal Gubbio che è sesto e il Terramo che è dodicesimo, quindi siamo sempre lì. Poi è chiaro che la situazione di classifica potrà assolutamente essere modificata, però sono due calendari molto similari per difficoltà e quant'altro. Certamente ad oggi è più difficile affrontare le ultime classifiche che quelle a metà classifica ovviamente perché quelle a bassa classifica hanno più da perdere. E' un peccato, ripeto, perché la Reggiana secondo me meritava qualcosa di più, soprattutto in questa giornata dove avrebbe potuto riaprire tranquillamente il campionato. D'altronde la Reggiana mi sembra parecchio stanca rispetto al Modena, che nonostante abbia uno stato di forma maggiore, ci ricordiamo che Modena Pistoiese finì all'andata 6 a 1, quindi insomma le cose cambiano molto velocemente. Mangano tre partite, bisogna crederci perché comunque quattro punti non sono un'enormità, neanche pochi. Quindi giusto che la squadra ci provi, continui a provarci e speriamo di vedere qualcosa di un po' più, un po' più convincente, fino alla fine per evitare, appunto, giocare fino alla fine per evitare i play-off, che come sappiamo sono sempre molto complessi da superare. Questo è tutto, aspettiamo, ci sarà una partita anche infrasettimanale, ma non mi ricordo qual è, quindi niente, ci sentiamo per le prossime partite. Ciao a tutti!